Il viaggio delle radici, questo è il tema della sedicesima edizione del premio Dean Martin, un tema che incarna anche la natura stessa dell'iniziativa, nata proprio per omaggiare quelli abruzzesi che, come Dean Martin, si fanno onore all'estero ma non dimenticano le origini. Cinque i premiati di quest'anno, ai quali verrà consegnato il simbolico cappello alla Dean Martin la sera del 3 agosto a Montesilvano Colle. Una bellissima iniziativa nata appunto 16 anni fa per volere per iniziativa della fondazione Dean Martin, un premio che negli anni è andato sempre più a consolidarsi e soprattutto a identificare la nostra città e il nostro territorio attraverso una manifestazione che mette in salto appunto i corregionali, i tanti nostri corregionali che all'estero si sono distinti da tanta attesa, tanta soddisfazione e un ringraziamento e un applauso appunto all'organizzatrice Alessandra Portinari, il presidente della fondazione e a chi con lei ha collaborato per la riuscita ottimale di questa bellissima manifestazione. È l'anno delle radici quindi abbiamo pensato comunque di ricordare anche questo evento a livello ministeriale, cioè quegli abruzzesi di seconda e terza generazione che tornano nella loro terra di origine a visitare i luoghi dei loro cari, dei loro parenti. Ci saranno come premiati, saranno in cinque, ci sarà un avvocato, verrà direttamente da Sud America, è stato colui che si è battuto per difendere il diritto dei neri, ma ci sarà anche Carlotta Onesti, che è una ballerina a livello mondiale, lavora a Parigi nell'Opera, ci saranno diversi personaggi anche legati alla nostra terra, perché c'è Centorame, Rodolfo Centorame, che è un montesilvanese nato qui ma poi emigrato, che è presidente di un'associazione in Argentina. E così come Francesca Della Penna, che è una giornalista, ma anche una blogger, attraverso un suo problema di salute, cioè la celiachia, si è inventata un blog di cucina abruzzese per cilieci. Quindi tantissimi personaggi, ma ci sarà anche una stella, cioè uno showman, e sarà Gianluca Guidi, perché lui ha voluto omaggiare nel suo CD Dean Martin e quindi sarà una serata all'insegna della musica, dello spettacolo, del viaggio delle radici, ma anche una riscoperta delle nostre tradizioni che gli emigranti riescono a portare in maniera fedele in tutto il mondo. Alla serata, presentata da Mila Cantagallo, interverrà anche l'orchestra Dean Martin, diretta da Antonella De Angelis e Tiziana Di Tonno e Leonardo Di Profio, che ricorderanno l'importanza delle radici.